Musica Benvenuti a Salute Sanità da Eva Perasso, siamo qui con il dottor Pietrino Forfori, grazie per essere tornato a salutarci. Grazie a lei, buonasera a tutti i telespettatori. Il dottor Forfori è un flebologo ma è soprattutto il creatore, diciamo così, l'ideatore di un progetto di cui abbiamo già parlato e torniamo volentieri a parlare, che è un progetto che si chiama Prevenzione Vincente, lo potete vedere proprio nell'immagine proprio accanto al dottore. La salute ti saluta se non fai Prevenzione Vincente, che cosa vuol dire dottore? Allora, intanto già da un vecchio assioma della medicina si diceva sempre che prevenire è meglio che curare. Questa è una vecchia legge della medicina. Questo cosa vuol dire? Che le patologie hanno quasi tutte un'evoluzione, se si riesce a cogliere le prime che si sopraggiungano. O nella loro fase iniziale, ovviamente la cura è molto migliore. E noi con Prevenzione Vincente siamo partiti con questo progetto per fare in modo di divulgare alle persone delle informazioni corrette, scientificamente provate e emesse da una voce scientificamente confermata. Perché al giorno d'oggi con i social media aperti a tutti, con tutti i blog, le persone si vanno a informare sulla rete, cosiddetta rete, e a volte si trovano informazioni precise da persone deputate e autorizzate a parlare. Molto spesso si trovano dei blog di pareri dove la gente legge cose che poi non sono, diciamo, validate. Prevenzione Vincente ha proprio lo stesso obiettivo del nostro canale, il nostro canale di salute, della nostra programmazione, quello di dar voce a persone che davvero abbiano le capacità e le competenze per dare la giusta informazione medica in questo caso. Quindi non stiamo parlando. E noi sappiamo bene quante fake news, quante notizie false girino in rete false o comunque non corrette rispetto magari alla situazione, alla patologia di cui soffre una persona. Però Prevenzione Vincente si occupa in particolare di malattie cardiovascolari. Quindi è proprio lì che vogliamo andare a puntare. Perché proprio la prevenzione cardiovascolare, dottore? Noi siamo partiti a parlare di prevenzione cardiotrombovascolare perché le malattie cardiovascolari sono la principale causa di morte nel mondo occidentale. In Italia e in Europa la maggior parte, il 48% dei decessi annui, è legato alle malattie cardiovascolari che sono le malattie che riguardano il cuore, il cervello e le trombosi, tanto per spiegare bene le persone. Dunque ictus, infarto e trombosi sono le tre principali patologie. A volte sono anche mischiate assieme perché a volte l'ictus è legato a una trombosi, l'infarto anche oppure a una stenosi di un'arteria senza trombosi. E siccome che è la prima causa di morte e i numeri sono molto importanti, bisogna informare le persone di un altro dato molto interessante che è quello che dice che i tre quarti delle patologie cardiovascolari sarebbero evitabili se il paziente avesse modificato le proprie abitudini di vita e se avesse corretto quelli che sono i fattori di rischio cardiovascolari ormai standardizzati e riconosciuti come principali. Ecco ed era proprio lì che volevamo arrivare perché l'attività preventiva va fatta andando a considerare quali sono i fattori di rischio del paziente. I fattori di rischio alcuni si possono modificare, altri invece purtroppo no. Allora i fattori di rischio codificati sono nove, tre sono fattori di rischio non modificabili perché sono l'età, che per fortuna modifica perché aumenta, il sesso e la familiarità. Quelli che sono i fattori di rischio invece modificabili sono ormai standardizzati e riconosciuti come principali il fumo, l'ipertensione, il diabete, il sovrappeso, la sedentarietà e la dislipidemia, il colesterolo, tanto per far capire per bene le persone. Prima però di parlare nello specifico di questi fattori di rischio vorrei ricordare ancora i numeri delle malattie cardiovascolari perché le persone non si rendono conto di quello che può accadere. Ma in Italia ogni anno muoiono per malattie cardiovascolari circa 130.000 persone. In Italia si hanno ogni anno 200.000 casi di ictus in una città come Genova siamo a livello di circa 2.000 ogni anno e di questi casi di ictus circa la metà purtroppo ha un esito fatale solamente il 17-20% guarisce, tra virgolette, definitivamente, nel senso che non ha esiti, però tutti i medici sappiamo che chi ha avuto un episodio purtroppo è a rischio di avere il secondo. Fate gli scongiuri, però questi sono dati che è meglio conoscere piuttosto che no. e al di là di quello che può essere un esito fatale è anche un esito pesantemente gravoso per le persone e per le famiglie se un paziente sopravvive ma con una grave disabilità che questo è anche un'altra grossa piaga della nostra salute. La grave disabilità, l'Organizzazione Mondiale della Sanità tra le varie linee guida ha anche trovato un indicatore che viene usato che si chiama DAILY, che è l'abbreviazione di un termine inglese ovvero Disability Adjusted Life Year proprio per misurare quali sono quegli anni della vita di una persona che si vivono non in piena forma, non in salute. Che cos'è questo DAILY, dottore? Il DAILY lo spieghiamo meglio perché è un termine quasi sconosciuto ai più anche nel mondo scientifico-medico purtroppo non è un termine molto usato. Il DAILY si compone di due parti in pratica va a misurare quali sono le cosiddette morti premature uno dice come fai a dire che è prematura? Io posso dire che è prematura perché se siamo in una società con un'aspettativa di vita di quasi 80 anni se un paziente ha un problema gravissimo prima verso 50-60 anni si dice anche è una morte rubata una morte portata via, una vita portata via e questo è un marcatore, una morte prematura ma anche gli anni di disabilità che uno può sopravvivere alla morte a un evento grave però con una grave disabilità un post ictus, una grave infermità mentale una grave infermità motoria per cui blocca le azioni quotidiane e rende il paziente e il cittadino non autosufficiente. la somma di mortalità più grave disabilità ci porta a questo termine del DAILY che è gli anni persi per mortalità o disabilità e questo... Sono tanti questi anni, dottore? Questi anni purtroppo sono tanti e sono in aumento negli anni 90 si parlava di circa 85 milioni di anni persi e verso il 2020 si parla di 150-200 milioni di anni persi a livello globale e mondiale però comunque sono cifre spaventose sempre. Come mai questo dato sta aumentando così in questo modo esponenziale? Sta aumentando in maniera esponenziale perché aumentano le nazioni che si affacciano per fortuna al mondo occidentale cosiddetto evoluto l'evoluzione però porta con sé alcune cattive abitudini che sono il camminare meno il mangiare in maniera esagerata come quantità e anche come qualità non sempre eccellente e alcuni vizi che se le persone le persone che vivono nei paesi poveri del mondo ovviamente non hanno perché i paesi poveri che non hanno i soldi per comparsi da mangiare sicuramente non andranno a fumare magari fumaranno le cortecce degli alberi In ogni caso anche in questi paesi mi sembra di capire che le percentuali poi comunque di malattie trombo-cardiovascolari siano comunque molto alte è così? Allora dai dati sempre dell'Organizzazione Mondiale della Sanità si dice che l'80% delle malattie cardiovascolari si hanno nei paesi evoluti e non nei paesi cosiddetti del terzo mondo Ok, ok, ok quindi è esattamente il contrario e poi una battuta me la faccia perché ho visto prima i dati e lei mi ha fatto notare come la Francia sia pur così vicina a noi ma così diversa da noi come mai vanno meglio loro? Allora, io faccio sempre il paragone con la Francia e non dai dati politici recenti perché un dato che mi ha colpito da subito da quando mi occupo di queste cose di prevenzione, di dati statistici è che un paese come la Francia che è vicino a noi scusate sono i nostri cugini hanno una popolazione per quantità simile alla nostra loro sono 63 milioni noi siamo 60 milioni geograficamente siamo nello stesso luogo più o meno abbiamo le stesse abitudini alimentari forse loro mangiano un po' peggio di noi perché alcune abitudini che hanno i francesi da noi non le abbiamo ciò nonostante loro hanno ogni anno 63 mila morti di meno e questo non è dovuto al fatto che i loro ospedali i loro medici siano più bravi e i loro ospedali siano più pronti a curare le malattie cardiovascolari non è per quello perché l'Italia in questo senso non è seconda alla Francia per nulla e un altro dato che ci dice sempre l'Organizzazione Mondiale della Sanità è che il 40% delle malattie cardiovascolari si curano e migliorano per quello che riguarda il processo di cura ma il 50% quindi un 10% in più migliora lo stato e si cura modificando gli abitudini di vita questo vuol dire sommato che i nostri cugini francesi molto probabilmente adottano delle misure di prevenzione che noi non adottiamo proprio per questo motivo un progetto come Prevenzione Vincente che stiamo raccontando in questa puntata è fondamentale per dare consigli utili e per combattere i fattori di rischio che portano a malattie trombovascolari ringraziamo il dottor Pietrino Forfori per essere stato con noi lo invitiamo a tornare a trovarci perché vogliamo sapere tutto su questi fattori di rischio dottore alla prossima puntata grazie e buonasera grazie a tutti grazie a tutti